Perché questa conferenza stampa stamattina? Perché siamo terribilmente preoccupati per i destini non tanto nostri, ma dei giovani di Crotone. Lo dico proprio in piena coscienza. Siamo preoccupati per la vita, per la salute dei giovani crotonesi e della provincia di Crotone. Perché essendoci questo istituto normativo regionale del distretto energetico, abbiamo visto costruire nel tempo ben sette termini ceneritori. La più grande discarica di rifiuti urbani. Abbiamo visto anche un'immensità di parchi eolici inondare le nostre colline. E qua siamo in una città dove c'è stato più di 80 anni di attività industria chimico-metallurgica pesante che ha lasciato un grandissimo inquinamento. In più ricordiamo tutti quanti il maledetto CIC che è stato messo dappertutto e come dicono parecchie anche nei campi coltivati. E noi siamo molto preoccupati di queste nuove iniziative, dell'A2A che vuole portare qui tutti i reflui e i residui del petrochimico siciliano di Priolo, Agusta, Siracusa. E abbiamo saputo che anche Maio ha avuto dall'autorità di Bacino l'autorizzazione a continuare il progetto di creare la più grande discarica dal sud di rifiuti pericolosi industriali. Questa conferenza stampa di oggi per parlare di quelli che sono i problemi di Crotone e in particolar modo per i rifiuti speciali, rifiuti che continuano ad arrivare a Crotone anche se qualcuno fa finta di non sapere nulla. Sì, allora noi per anni ci siamo battuti per non far diventare Crotone la discarica del Mezzogiorno d'Italia. Per qualche tempo ci siamo riusciti, adesso è ripreso il tentativo di trasformare la nostra realtà nella pattumiera della regione del sud Italia, questo a noi non va bene. Non è possibile dopo avere la più grande discarica del Mezzogiorno d'Italia avere anche un termo valorizzatore che brucerà qualsiasi rifiuto proveniente da tutte le parti. non è possibile ancora assistere a una mancata bonifica dell'area industriale e non è possibile dal nostro punto di vista pensare di tombare lì i rifiuti perché tombare lì i rifiuti significa distruggere definitivamente la città di Crotone e la sua provincia. I quei rifiuti Leni aveva deciso insieme a tutte le altre istituzioni di portarli fuori in regione per un semplice motivo, perché la città di Crotone per 70 anni ha dato ricchezza al territorio italiano ed europeo e ha ricevuto in cambio soltanto veleni, inquinamento e quindi la mancanza della salute da parte dei cittadini. A tutto questo le istituzioni come hanno risposto? Non solo continuando a fare quello che hanno fatto ma smantellando anche la sanità pubblica.